Si chiama Cristian Franco, l'uomo di origine rumena residente a Pistrino, che è stato arrestato lunedì 20 novembre per l'omicidio di Marielle Suete, la settantenne uccisa a Pistrino un anno fa circa. Il presunto omicida, nei confronti del quale, secondo la procura, insistono gravi indizi di colpevolezza, comparirà presto davanti al giudice per le indagini preliminari a fornire la sua versione dei fatti e accusato di omicidio volontario e violenza sessuale. Ad inchiodarlo del materiale biologico repertato sul corpo della vittima, che ha tentato in ogni modo di difendersi dalla furia del suo aggressore. Tra Marielle e l'omicida c'era una conoscenza pregressa. L'uomo e la moglie, totalmente strane alla vicenda, aiutavano Marielle nella vendita online di abiti. Intanto sul caso anche il sindaco di Citerna, Enea Paladino, parla di omicidio efferrato che ha scosso la comunità locale, ringraziando i carabinieri per le accurate indagini svolte.